Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle news di Minecraft Oggi parleremo dello snapshot 24v 20a ma anche dei 15 anni dall'uscita di Minecraft e quindi dell'anniversario Benvenuti quindi in questo nuovo video di news, io come sempre comincio chiedendovi il vostro supporto Lasciate un like per supportare video e serie e iscrivetevi se non l'avete fatto per non perdervi niente delle novità E ragazzi ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di quello che stiamo per andare a vedere Che sembra essere molto interessante soprattutto al lato anniversario forse si nasconde anche qualcosa Ma partiamo parlando dello snapshot 24v 20a ormai siamo agli sgoccioli della versione quindi non possiamo aspettarci grandissime novità A parte forse una cosetta ma ve la dico dopo ma comunque ci sono dei ritocchi, dei cambiamenti, delle cosette molto interessanti Soprattutto per chi poi il gioco lo vive e lo gioca sul serio Infatti ad esempio c'è un cambiamento che riguarda i drop delle witch Come forse già saprete le streghe hanno un sacco di drop Possono dropparti polvere di glowstone oppure polvere di redstone, zucchero, occhi di ragno, bottiglie, gunpowder Quindi polvere da sparo e addirittura bastoncini Non so perché addirittura bastoncini quando sono la cosa meno interessante dell'elenco ma va bene Da questo snapshot in poi però le streghe avranno un drop fisso Come vedete hanno droppato occhi di ragno e 4 di redstone Proviamo a killarne un'altra e noterete che di nuovo dropperanno bastoncini, bottiglia e 8 di redstone Abbattiamo un'altra strega per scoprire che ha droppato altri 8 di redstone Quindi a parte tutte le cose che può droppare Dropperà la strega da ora di fisso 4 o 8 pezzi di redstone In questo modo le farm di streghe diventeranno vere e proprie farm di redstone Cosa che già si usa a fare ma in maniera molto meno efficiente Da adesso in poi una farm di streghe diventerà molto conveniente invece per la redstone E forse ne farò una anch'io a questo punto perché mi inizia a interessare la cosa Un piccolo cambiamento, anzi una piccola novità se vogliamo dire così Che è sicuramente molto gradita Poi abbiamo delle novità che riguardano gli attributi e gli effetti dati giocatori Gli attributi settati ai giocatori Quindi ammettiamo di fare un, per farvi vedere, generic scale Generic scale, base, set, 5 Io sono diventato ora gigantesco Come vedete sono alto 5 volte il normale Bene, quando si muore, quando si respona, anzi Viene mantenuto il settaggio che avevamo imposto Come state vedendo qui Ora mi rimetto però a 1 così dovrei tornare alla normalità Inoltre viene precisato che effetti attivi o modifiche di questo genere Vengono mantenute anche cambiando dimensione o vincendo il gioco Cosa che apparentemente prima non funzionava o semplicemente non era ancora stata implementata A proposito di vincere il gioco Pare che siano stati anche aggiornati i crediti Probabilmente sono state scritte al suo interno All'interno del testo Più persone che hanno lavorato al gioco Peraltro se vi interessa Di recente ho fatto un video dove per la prima volta Ho letto i crediti E abbiamo parlato della lore che si nasconde Nei crediti di Minecraft Se vi interessa dateci un'occhiata Perché era molto interessante Ve lo lascio nelle schede Un altro cambiamento interessante è Per quanto riguarda i pistoni Eccolo qui Il suono dei pistoni è stato modificato Sentite un po' Esattamente È molto più delicato rispetto a prima Vediamo se c'è differenza con lo sticky Apparentemente no Questa cosa fa molto strano Perché questo cambiamento? È una richiesta che la community ha fatto per molti anni E riguarda il fatto che il suono dei pistoni Era effettivamente molto forte E poteva diventare fastidioso Quando attivavi circuiti con tanti pistoni Creando praticamente una macchina del rumore insopportabile Questo suono è molto più delicato Il volume è più basso Quindi sicuramente disturberanno molto meno Il che è una cosa giusta Intelligente Richiesta dalla community Certo fa strano E non siamo abituati a sentire questo suono Cioè non sembrano i pistoni Però Però Ci sta Ma parliamo ora dell'anniversario di Minecraft Infatti tra due giorni Il 17 Minecraft Compie 15 anni Ci siamo un po' confusi Con il 15 Perché compie 15 anni Ma il 17 L'anniversario Infatti il gioco Venne ufficialmente pubblicato Nel 17 maggio Del 2009 In onore di questi 15 anni Quindi è stato rilasciato un trailer Che ci spiega che per 15 giorni A partire da oggi Che è il 15 Fino il 29 Verranno rilasciati Dei regali Delle cose gratuite Per la community In particolar modo si parla di Pezzi di skin Per personalizzare la propria skin Con l'editor Della Bedrock Edition Editor che è diverso Ovviamente Dalla Java Dove non c'è proprio In Java Metti la tua skin e basta Nella Bedrock puoi scegliere Di mettere la tua skin O di crearla Con anche dei modelli custom Tipo braccia bioniche Uncini Cappelli Capelli 3D Eccetera eccetera Quindi 15 regali Arriveranno Da parte di Mojang Si potranno riscattare Ogni giorno Nel mentre Pare anche che arriveranno Dei mantelli Ne avevamo già parlato In uno short Il mantello col Creeper Arriverà in entrambe versioni Bedrock e Java Mentre due mantelli speciali Che riguardano il collegamento La partnership Con Twitch E TikTok Sembra che arriveranno Nella Bedrock Edition E basta Ancora non c'è nulla Di ufficiale Sono rumor Però sembrano abbastanza Attendibili Quindi aspettiamo L'arrivo di questi Tre mantelli Tornando però Al trailer Molti si sono chiesti Ma questo trailer Potrebbe nascondere Qualche indizio Su novità Beh Considerate che questi trailer Spesso sono pieni Quindi inesattezze Perché non vengono fatti Da Mojang Vengono fatti Da studi di animazione Collegati Che aiutano A fare i trailer Quindi potrebbero Anche rivisitare Alcuni dettagli Del gioco Tenendo questo a mente Per un certo Momento Si vede Un Decorative pot Con una decorazione Quindi una shared Unica E mai vista Che sembra Indicare la rotta Di un tesoro Una mappa del tesoro Bene Non c'è niente di simile Nel gioco Potrebbe essere appunto Una Cosa inserita Nel trailer Perché L'hanno voluta fare così Gli piaceva l'idea Oppure Potrebbe essere Un teaserino Di una shared In arrivo Questo non lo sappiamo Io ve la segnalo Intanto Magari Quando sarà effettivamente L'anniversario Potrebbe uscire anche Qualche regalino in più Sotto questa forma Chi lo sa Mancano due giorni Lo scopriremo presto E in realtà Mi è venuto in mente Che qualcosa di simile Che c'è Mi è venuto in mente Mentre editavo il video Quindi vi faccio vedere La explorer Che potrebbe essere Una mappa del tesoro In realtà vi dirò Che non l'ho mai capito Del tutto Allora Prendiamo i Mattoncini Facciamo un po' Tal volo Così la vediamo Perché praticamente Anzi in realtà Bastavano Quattro Shared Così Via Praticamente Questa Potrebbe essere La mappa del tesoro Anche se A me sembra Che è un po' Una barca Vela Boh non lo so È strano Probabilmente La mappa del tesoro Quindi sì Hanno fatto Forse una rivisitazione Di questa Un nuovo design Arriverà Questo design Nel gioco È una Shared Nuova Non lo so Forse Ripeto È solamente Un dettaglio Di libertà creativa Che gli animatori Hanno voluto inserire Nel trailer Magari non significa nulla Comunque Andava segnalato Sicuramente Nel trailer Ci sono altri Dettagli strani Altre cose un po' Insolite Ma molte le ho già filtrate Perché Semplicemente Sono ad attribuire Appunto Al fatto che Un trailer Non è fatto Con il gioco Vero e proprio E quindi Alcune differenze Per forza Di cose ci sono Tipo Pepite d'oro Più grandi del normale E robe di questo tipo E detto questo Per il video È tutto Spero che vi abbia interessato Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Io vi avviso Che stasera Non sono in live Ma la recupererò Invece domani sera Che è giovedì Quindi Oggi in interlive Domani sì Per il resto Ci vediamo anche domani Con nuovi video Un saluto da Eren Ciao a tutti